Fotografia di una femmina di capriolo che ci è inviata da Paolo De Michei che abbiamo già mostrato in passato con le sue fotografie nella zona di Rovereto, siamo in Trentino e lui ci ha regalato queste immagini raccontandoci che per lui è stata un'emozione incredibile perché era a meno di 10 metri, da lui è sbucata sul sentiero dal bosco l'ha guardato, si è fermata a osservarlo lui è stato immobile, fermo, emozionato ha scattato due o tre fotografie addirittura prima che questa timida femminuccia di capriolo scappasse e poi andasse per la sua strada sono incontri emozionanti, è un piacere farveli vedere fotografie non semplici nel chiaroscuro dei boschi infatti vediamo qualche luce, qualche ombra ma è una fotografia totalmente naturale e ci piaceva mostrarvela per quello che è l'unicità l'emozione dell'incontro di Paolo quindi ringraziamo veramente Paolo per averci permesso di commentarla insieme qui in Trasolio